La Coppa Antimafia Valle del Marro Libera Terra, ancora nel mirino della criminalità organizzata, in un terreno di contrada sovereto di Gioia Tauro affidata alla Coppa, sono state estirpate e tagliate oltre 200 piante di kiwi. La scoperta è stata fatta quando i ragazzi si sono recati per lavorare nel campo confiscato alcuni anni fa alla cosca Molè di Gioia Tauro dell'Andrangheta. Intere file di piante che erano state piantate mesi fa sono state estirpate e lasciate per terra, mentre altre erano state tagliate di netto. Si tratta del quarto atto intimidatorio in un solo anno in quel terreno. Sulla vicenda hanno avviato indagini i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, ai quali i responsabili della cooperativa hanno presentato denuncia. Fondata grazie ad un progetto di Libera con un ruolo attivo di Dompino De Masi, referente dell'Associazione nella Piana di Gioia Tauro, la cooperativa Valle del Marro è composto da un gruppo di giovani che rifiutano la logica del compromesso, l'apatia del quieto vivere e la rassegnazione culturale all'unipotenza mafiosa. Noi, ha riferito il presidente della cooperativa Domenico Fazzeri, continueremo ad andare avanti e, come avvenuto in passato in occasione di altri episodi, innesteremo nuovamente le piante come segno di resistenza nei confronti di una mentalità mafiosa che, anche se incute paura, non riuscirà a vincere. Anche la scorsa estate la Coppa Valle del Marro aveva subito pesanti intimidazioni. I malviventi, lo scorso giugno, dopo aver forzato il cancello d'ingresso, avevano tagliato i tubi di irrigazione alla stessa piantagione di kiwi, da poco avviata su un terreno confiscato, come si è detto in precedenza, alla cosca di Indrangheta Molesperanza. I criminali avevano anche rubato gli impianti elettrici, le pompe idrauliche e il dissabbiatore. A questi taglieggiamenti ne erano arrivati altri, come furti di altre attrezzature e danneggiamenti di vario tipo e un incendio di ulivi secolari nei terreni della località di San Procopio.